All'interno dell'area rossa ovvero l'area supervisione troviamo la funzione di valutazione cliccando nell'area rossa valutazione e cliccando nel giorno di interesse posso andare a verificare quali azioni quali comportamenti sono stati eseguiti dalla persona se sono stati eseguite tutte le sotto azioni del comportamento stesso e cliccando la stellina in alto a destra dare una valutazione di tipo quantitativo ma anche qualitativo dell'esecuzione e del raggiungimento dell'obiettivo cliccando ok salverò la mia valutazione nell'area di valutazione delle attività andrò a vedere l'altra azione che è stata fatta durante la giornata sono stati registrati feedback diretti quindi gli smile verdi o rossi in riferimento all'adesione al timer clicco nella stellina rossa esprimo la mia valutazione attribuisco quante stelline ritengo per il raggiungimento dell'obiettivo che si vanno a salvare poi nella schermata di valutazione tutto ciò si ritroverà all'interno del calendario di oggi per dare un feedback diretto alla persona della valutazione del supervisore o del caregiver quindi la persona stessa avrà la possibilità di capire quale sarà stata la qualità dell'aggiungimento del suo obiettivo